Si è appena conclusa la partita contro Arosio, abbiamo vinto 3 a 0, è un risultato che arriva dopo settimane di intensi allenamenti e finalmente siamo riusciti a portare in campo anche quello che è il divertimento oltre che la tecnica e la tattica quindi volevo fare i complimenti a tutte le mie compagne per il modo in cui si allenano e che riportano in campo e allo staff per supportarci sempre, grazie